1, 2, 3, prova, prova Teorin Tearing, ciao, 1, 2, 3, prova, prova, la, bla, bla, alza la voce, abbassa la voce, vado veloce, vado lento. Benvenuti a tutti, ci troviamo nella soleggiata Carì, a un'altezza molto alta, la soleggiata Carì, a 1700 metri sopra il livello del mare, il tempo è fantastico, dopo avrete modo di sentire le precisioni di Meteorobi, allora, cosa particolare di questa gala organizzata dalla 92, per andare in partenza si prende l'asseggio via, asseggio via, asseggio via, asseggio via, ho da prendere l'asseggio via, è una cosa fantastica tra nazionali e adesso anche i TMO regionali, i TMO mondiali, meglio così per noi, almeno non dobbiamo fare troppo di livello ad andare in partenza, passo la parola a Jacopo. Infatti oggi abbiamo qualche particolarità di questa gara, in effetti oggi viene premiato questa challenge, che insieme alla gara di settimana scosta di Castumo e insieme alla gara di Ironico, di Aprile, avverrà questa, è l'ottima generazione, questa challenge, tra la Marica di Corie. Questa particolarità? Avremo una theory in teering challenge all'interno di questa gara. In effetti il nostro grande grande Niccolato e il nostro ufficio Presidente, il nostro ufficio Presidente, il nostro ufficio Presidente. Diego, le tue aspettative? Ma, mie aspettative? La lunghezza è già meno, è minore rispetto a quelle di H18, spero veramente di riuscire a stare tutt'olora, tutt'olora, tutt'olora. Vi faremo poi sapere anche le aspettative di altri concorrenti e ci senti a facciarci, ci senti a facciarci, ci senti a facciarci per le solite interviste e per comunicarvi com'è finita la Turing Challenge. A dopo! A dopo! Siamo qui con Daniele Zanzo, un salire del turismo della Leventina, giusto? Io lavoro per il comune di Faido. Grazie a tutti. Grazie a tutti.